La sesta giornata regionale del volontariato è stata ospitata il 25 marzo dal centro incontri della regione Piemonte di Torino. Intitolata Volontariato, uno stile di vita che promuove speranza, ha proposto una riflessione sulle sfide del volontariato in un periodo in cui la crisi dell'economia e dei valori sembra minacciare la società e lasciare a se stesse fasce sempre più ampie di popolazione. Moderati dalla vicepresidente del Consiglio regionale del volontariato, Maria Paola Tripoli, sono intervenuti Stefano Gheno, dei centri di solidarietà di Milano, Luca Stefanini, della società San Vincenzo de Paoli, Paola Varese, dell'associazione Vela Onlus di Ovada, Alessandro Meluzzi, delle comunità Agape, madre dell'accoglienza e incontro, Anna Laura Ravera, del coordinamento del volontariato oncologico Piemonte. Interventi in chiusura del direttore generale per il terzo settore, le formazioni sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Danilo Giovanni Festa, e del direttore delle politiche sociali e per la famiglia della giunta regionale, Raffaella Vitale. Viviamo in un momento di fortissima crisi di valori, di disorientamento e di sconforto, ebbene il volontariato vuole essere presente perché diciamo lo stile di vita del volontario è già una testimonianza di speranza, costruttori di speranza. Il secondo dato è anche quello che in realtà il volontariato deve essere più coinvolto, più stimato e non vivere il suo ruolo o sentirsi chiamare come supplente, come surrogato, come suddito. La sussidiarietà non vuol dire che il volontariato e il terzo settore siano in qualche modo organismi sussidiari dell'amministrazione pubblica, ma al contrario che l'amministrazione pubblica diventi capace di valorizzare e di interloquire in maniera responsabile con quelle che sono le naturali e autonome forme di auto-organizzazioni solidali della cittadinanza. Grazie.